ciao ragazzi questo non è un video critica ma anzi non è proprio un video critica è un video contrario per spiegarvi questo fatto qui praticamente ci stanno questi bambini di nome pietro calcio che vabbè fa solamente video di calcio però poi ha fatto un altro video che sarebbe che è un altro canale scusate che sarebbe presidente bm e si finisce di avere 14 anni vabbè questa è un'altra cosa e lui dice che ho 10 anni vabbè se per lui ho 10 anni vabbè comunque scusate per la voce sto a letto io ne ho 12 però questo è il dettaglio vabbè lui ne pensa che ne ho dice vabbè sto solo infatti la cosa che mi fa fastidio è quando mi scrive nei commenti insulti i video critica non me ne fregano ad oltre sto bambino ne fa un sacco ma no nei miei commenti no nei miei video no tutto tranne i miei video tanto io poi le elimino pure quindi poi loro mi raidano le elimino mi fanno insulti le elimino basta che infatti alcuni metto pure con il cibo per sostenerli dovete sapere che la famiglia di pietro calcio è terra terra è molto molto povera per questo poi insulta sempre a casa gli altri va beh ragazzi niente video finisce qui saluto domani ciao 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 ciao